La prima serata del Festival di Sanremo su Rai 1 ha avuto in media 10.911.000 telespettatori, pari al 54,7% di share. L'anno scorso l'ascolto medio della prima parte era stato di 8.363.000 spettatori, pari al 46,6%. Ma la serata è stata anche la migliore degli ultimi 15 anni. E' dalla prima serata di Sanremo 2005 a conduzione di Paolo Bonolis che non si arrivava a queste cifre. La prima parte della prima serata del Festival ha avuto il 54,5% con 13.800.000 spettatori, la seconda 55,4% con 6.412.000. Nel 2021 la prima parte della prima serata del Festival aveva fatto segnare 11.176.000 spettatori con il 46,4%, la seconda 4.212.000 con il 47,8%. con il 47,8% con il 48,8% con il 56,4% con il 47,9% con il 48,8% con il 57,9% con il 55,8%. Grazie a tutti.